Ola! 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 Finalmente si torna un po' in live, un po' qua su Twitch, era da un bel po' onestamente che mancavo da questa piattaforma e ho voluto dire, vabbè, ho pensato, vabbè dai, è il momento di tornare e cercare di essere un po' più continui, quindi mi scuso per la mia assenza di questi mesi ma purtroppo ho avuto poco tempo, onestamente pochissimo tempo a dirla tutta, veramente tanti impegni, però voglio tornare e voglio essere più continuo che mai. Intanto volevo ringraziare DarkDarkRiser7 per il follow, grazie mille, ci conosciamo ormai, benvenuto. Uè, Gabriel, ma ciao, ma ciao, da quanto tempo ormai, da tantissimo tempo, onestamente veramente tantissimo tempo. Ciao Dark, ciao bello, ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene ragazzi, come state? Spero bene. Ma l'Hisbox, no, non l'ho, cioè l'ho presa tipo due anni fa, quindi da un bel po' che ho l'Hisbox, ad essere onesto. Tra l'altro, sì, Xbox Serie X è una console meravigliosa perché avendo il Game Pass ho veramente tutto quello che voglio, insomma, un sacco di giochi ed è comodissimo come servizio. Io lo uso tantissimo e mi recupero un sacco di giochi, infatti mi sono installato Forza Motorsport, Cocoon, Solar Rush, Starfield, che volevo portare una serie qua su Twitch, perché essendo un gioco molto lungo, volevo portarla proprio su Starfield. Intanto bevo perché, se no, muoio di sete. Ah, bene, bene. Allora, bene, sono contento che comunque state bene, mi fa un sacco piacere. E-Football sì, l'ho mollato onestamente, l'ho mollato perché ci sono pochi cambiamenti, anche nel nuovo E-Football l'ho provato, l'ho portato un po' sul canale YouTube, ma no, ma no, è sempre lo stesso gioco, cioè non mi appaga onestamente, quindi ho preferito mollarlo più che giocarlo contro voglia. Perché se devo giocare un gioco contro voglia, ehi, non è il massimo. Diciamo che preferisco, quando gioco, giocare i giochi non contro voglia, ecco, e purtroppo E-Football l'avrei giocato molto contro voglia, perché purtroppo mi era un po' andato a stancare per la poca presenza di nuovi contenuti, nuove cose. E tra l'altro, e tra l'altro, cos'è che volevo dire? Mi sono scordato, mamma mia, c'ho tipo l'Alzheimer. Ah no, sì, ecco, volevo dire che praticamente sto aspettando con tanto hype, ma non so quando è che arriverà, onestamente non ne ho idea. La Master League, perché per ritornare a giocare a football, io voglio avere la Master League, quindi sto aspettando spasmodicamente questa fottuta Master League, che ormai penso che non arriverà mai, ma dettagli, voglio essere più ducioso. Io gioco ancora, sono stato anche top 100, wow, top 100. Però, complimenti Gabriel, complimenti, mi ricordo che mi facevi vedere le tue formazioni, i tuoi giocatori più forti, e avevi delle squadre che erano fuori di testa, ma c'è ancora tanta gente che gioca a football, voi che, cioè voi, tu che ci giochi ancora ogni tanto, immagino. E niente, sì, volentieri, volentieri, a qualcosa possiamo giocare, adesso non so bene a cosa, però si potrebbe fare. Tra l'altro mi sono scaricato un gioco, che è questo From Space, che è un gioco, da quanto ne so, online cooperativo. Quindi, non so onestamente, ma si potrebbe fare, onestamente parlando. Non più, eh, anche tu ti sei scocciato, eh. Posso capire, posso capire onestamente la scocciatura, perché dopo un po' che giochi allo stesso gioco, vedi che non cambia, vedi che c'è solamente quella modalità e purtroppo è anche poco appagante, ti ritrovi un po' ad annoiarti e a passare ad altro. Io, per esempio, sto giocando molto a Football Manager, fra poco esce il 24, sto giocando molto a FIFA, con la nuova carriera allenatore e giocatore, e FIFA poi, FC, scusate, FC24, ma anche FC24 ha un sacco di problemi, però almeno c'è la carriera, ci sono diverse cose, quindi riesco a divertirmi un bel po' di più rispetto a eFootball. E due mesi, porca misera, due mesi che non giocavi. E per te che eri molto appassionato, due mesi che non giochi a quel gioco è tanto, è veramente tanto. Sì, aspettiamo la Master, Dark, sì, aspettiamo la Master, ma io ho la paura che questa Master, onestamente, se arriverà sarà molto tardi e forse anche troppo tardi, anche perché quest'anno hanno cannato l'inizio della stagione. Quindi a questo punto si presume il prossimo anno? Non lo so, non lo so. Ormai io con Konami, con eFootball, ho perso le speranze, quindi facciano un po' quel che gli pare e se dovessero lanciare questa Master, ci tornerò più che volentieri su eFootball e ci farò una Master League, che mi manca tanto, devo dire mi manca tantissimo. Anche se ora con FC e Football Manager, trovargli uno spazio non sarebbe facile, onestamente, però ci si trova, ci si trova volentieri per una Master League, come ai vecchi tempi. E no, mi dispiace, cavolo, che hai la febbre. Dai, dai, Gabrielle, allora buona ripresa, buon tutto, riguardati, mi raccomando. E vabbè, se tutto va bene, domani torno in live. Se tutto va bene, mi auguro che tu starai meglio, mi auguro che tu magari già da stasera stai un pochino meglio. E quindi buona guarigione, buon tutto, grazie per essere passato, grazie mille. Era da un po' che non ci sentivamo, e mi ha fatto un sacco piacere comunque rivederti qua. Mi ha fatto veramente un sacco piacere. Alla prossima, Gabrielle, alla prossima. Allora, intanto io inizio questo Giussant, che è un gioco che, onestamente, io ho visto che bisogna scalare. Però non so se c'è solamente questo, se c'è altro, non ne ho idea. Quindi lo scopriremo assieme. Tra l'altro, gli sviluppatori sono quelli di Life is Strange, di Vampyr, i Dontnod, che sappiamo che sono un team molto talentuoso. Quindi devo dire che mi aspetto veramente tanto da questo gioco. Giassant, termine nautico francese, che indica una marea che si ritira. Ok. Una marea che si ritira. Hm. Ammazza, oh, che luce. Mi ha tipo abbagliato malamente. Artisticamente, già da queste prime immagini, mi sembra che ci possa essere. Mi sembra. Lui molto particolare, come vestiario, con quegli occhiali un po' così, che onestamente non mi fanno impazzire, ma vabbè. Mi dà l'impressione che sia un gioco molto, ma molto, evocativo. Così a primo impatto, eh. Ma questa sarebbe la roccia, la montagna da scalare. Auguri. Auguri, veramente. Sembra tipo gigantissima, altissima. Allora. Anche a me manca tanto la Master. Io ero un grande fan di PES. Gioco ai tempi di Ys. Di Ys Pro. Pensa un po'. Quindi parliamo dell'epoca PlayStation 1. Bene o male, insomma, qualcosa come 30 anni fa. Qualcosa come 30 anni fa. Quanto tempo è passato. Quanto tempo è passato. Eh, una volta i PES erano una roba meravigliosa. Ricordo benissimo PES 6, PES 5. Poi da lì c'è avuto un calo, un crollo con la PS3. Per poi negli ultimi anni si era si era anche ritrovato un po' PES nel suo gameplay, nel divertimento. Però ultimamente con questo football secondo me l'idea non era male. Però hanno cannato tantissime cose. Ed è veramente un peccato perché l'idea era interessante e molto intrigante a mio parere. allora allora ci ritroviamo qui capitolo 1 punto notevole allora intanto mi sembra veramente strafluido ed è una cosa spettacolare minchia oh ma quanto è fluido raga cioè è fluidissimo bello mi fa godere un sacco questa cosa giorni due ciao bello come va grande alex grande alex bentornato giorni due chissà chissà beh giorni era un bel gioco quindi fosse anche un giorni due non sarebbe neanche male allora cerca un appiglio a così proprio mi ricordo un'altra cosa che ho giocato tempo fa ma era un gioco indie ed era molto peggio come qualità onestamente quindi direi che ok ma se io posso attaccarlo qua scusami non posso attaccarlo al momento ah ecco ah combia avvolgo la corda se tengo premuto ovviamente ok ok quindi potevo farlo anche prima comunque allora fluidissimo ripeto artisticamente mi sembra veramente molto valido sembra promettere benissimo questo giussant questi moschettoni rendono automaticamente sicura la salita e indicano il percorso giusto da seguire quali moschettoni dici questo i colori sono bellissimi cavolo si assolutamente ha dei colori straordinari di impatto mi piace mi piace infatti già da questo primo primi minuti mi sto galvanizzando perché potrebbe essere veramente un qualcosa di di assolutamente valido tra l'altro è un gioco che c'è su gamepass quindi rimarco il fantastico servizio di disbox e in più mi sembra che costi sui 25 euro per chi non ha disbox quindi insomma così ok quindi non costa nemmeno tanto il gioco in sé abbastanza low budget come progetto mi sa che ho sbagliato devo andare di qua si gioca molto con con gli lt rt per il momento magari andando avanti si avranno altri altri input le tre in con aspetta 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 le tre in concine rappresentano i chiodi da roccia secondari se gli indicatori sono pieni puoi utilizzarli se sono vuoti significa che e fammi leggere porca ah ecco bravo i chiodi sono già collocati su una parete cioè penso di non aver capito vabbè non facciamoci domande andiamo avanti non le domande sono per i deboli che devo fare di qua per forza no ok no ok mo penso di aver capito mamma mia ok ho avuto un po' ah c'è anche la stamina ecco vedi mo che inizia ad essere più complesso onestamente il gioco mamma mia no no mo mi mette ansia però eh mo mi mette un po' di ansia ma quanto dura sta sta parete aiuto poi c'è un silenzio di fondo che è veramente rilassante cioè mi sto rilassando un casino altro chiodo ah così se casco non 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 muoio bisogna muoverci perché la stamina ah posso anche riposare ah posso anche riposarmi vabbè fantastico buona sapersi però la stamina non arriva fino al massimo giusto mi sa di no mi sa di no cioè una volta che tu ti riposi la stamina perde un pochettino ok ok inizia a essere più complesso e questa è andata siamo già abbastanza su osere dire ma quella barca come cappero c'è arrivata lassù domanda del giorno ma come c'è arrivata ma tipo questo era un rifugio no aspetta no 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 va bene va bene va bene dove sto andando va benissimo sembra tanto un un rifugio questo si oserei dire che sembra proprio un rifugio o monta calma ok cava cava tira la corda indietro sembra sembra non esserci è stato per di sembra non esserci collezionabili invece invece ci sono i collezionabili perché pensavo che non ci fossero però ci sono un altro sonno a rovesciare le pietre del vecchio delta devo capire quali sono le pietre del vecchio delta ma ok raccolto due stazioni sono stato che prendere pezzi di ricambio un bel bottino dovrebbero bastare per riaprire la strada verso il vecchio promontorio per il resto tutto filadiscio un paio di vecchie lanterne che penso di poter rimettere in sesto pensare che la gente questa roba la buttava via oh e finalmente ho trovato una vecchia macchina da cucire perennio e ne chiedeva una da tanto tempo non è in ottimo stato ma dovremmo essere in grado di armeggiarci anche se non so ancora come farò trasportarla fino a bassa marea vecchia macchina da cucire perché? da cucire? nota per me non fare più affari con REM non fa altro che smontare quello che trovo e rivendere i pezzi di ricambio nelle alture si definisce riparatore ma non è altro che un venditore di schiuma immagino che alla schiuma si riferisse tipo un venditore di nulla cosmico praticamente adesso ho anche un obiettivo leggi una lettera obiettivo complesso allora ah devo per forza scendere e beh dove sei ora doveva esserci il mare invece siamo in un senza acqua aspetta dove sei ora doveva esserci il mare invece siamo in un senza acqua cioè scusa ah invece ora siamo senza acqua quindi una volta tu dici che qui c'era tipo il mare e di conseguenza e di conseguenza quella barca è lì per quel motivo lì giusto o dico una cavolata che sto sto ragionando su questo fatto ok ok andiamo giù andiamo un po' giù e mo? ah aspetta no non so se sto facendo bene no mi sa che mi sa che non devo andare di qua ma c'è un modo per tornare su o o no o sono spacciato ah ok ok scusa aspetta posso andare anche in basso che poi dove ero prima ah ok 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 ho capito ho capito scusate sì una volta era coperto dal mare adesso c'è tutto prosciugato eh sì eh sì non ci avevo pensato in effetti perché beh sarebbe molto strana questa cosa però infatti sono un sacco di barche per terra ora a guardarci bene ha senso ha senso vai come cappero salgo domanda eh eh sono in difficoltà e come cavolo salgo allora ho sbagliato qualcosa e fin qua ci siamo tutti credono qualcosa ho sbagliato devo tornare su per forza per forza per forza andiamo quindi da qui da qui a questo punto vabbè l'unica era andare proprio lì però aspetta aspetta ok ok ci siamo ci sono ci sono no ancora più giù perfetto perfetto meraviglioso ma come siamo bravi eh che cos'è ah si torna qua vabbè non ci interessa a volte la telecamera fa un po' le bizze questo si eh telecamera non perfetta ma vabbè ma va bene tipo una conchiglia credo sta risentendo dei vecchi rumori di anni anni fa può essere di un passato quantomeno potrebbe essere questa cosa si c'era qui c'era l'acqua una volta perché senti dei rumori di gente che si buttava nel nel mare immagino c'era tipo una città da queste parti quindi si diciamo che era una città sotto forma di roccia quanto pare allora eeeh allora riusciresti a occupartene ho chiesto l'autorizzazione a bassa marea e sono tutti d'accordo ehi mo senti sono cose che succedono spero che un giorno mi chiederai di fare qualcosa che non sia smontare le barche per fare scalette ad esempio se sono libera per una cena romantica è impaccatura sia visto che il villaggio approva non ho molti tipi di legno tra cui scegliere dopo il nuovo sentiero per la penura che ho dovuto costruire ma mi sono rimasti uno o due redditti quando le correnti lo permetteranno mi metterò all'opera ti devo un favore grazie sei il migliore a proposito hai mai più incontrato la vecchia Sonia? credo che in questo momento stia rovistando nella tua zona se la vedi in giro e diresti che ho bisogno di un nuovo piano cottura per il forno il mio facqua da tutte le parti nel frattempo salpa alla volta del ristorante non so quando sarà romantico ma possiamo sempre condividere un pasto cotto alla meno peggio e vabbè e vabbè e vabbè va bene lo stesso e basta basta e e mo penso di aver capito no no ho sbagliato ho sbagliato penso che dobbiamo grapparci da quell'altra parte ok così è perfetto ok cos'è? what the fuck? è un collegamento nel caso che si casca immagino qui immagino che ci sia la possibilità di cascare quanto pare qua vai qui c'è qualcosa vediamo un po' oh ok allora solo quando ho iniziato il mio turno per prepararmi a viaggio l'ho realizzato è la mia ultima attraversata per rifornire fume fumeroia fumeroia dopo la gente dovrà arrangiarsi con quello che ha ma c'era un'altra cosa cosa non darei per tornare a vivere come prima a vedere i sorrisi sui volti della gente i piccoli che si arrampicano sulle scoglieri stufano nelle onde e noi pescatori marini che impariamo di nuovo a catturare i pesci come una volta ormai questi sono solo ricordi lontani tramandati sono dopo sono dagli anziani ma basta con la nostalgia dei vecchi tempi ho un deserto da attraversare e una carovana da preparare ok quindi si iniziava già a avere questa mancanza di mare immagino in questa lettera almeno io ho capito così magari ho capito male io può essere tutto però col tempo arriveremo comunque ad avere delle risposte credo aia pure così è così è tosta mi fa venire l'ansia a me quindi pensate sto avendo l'ansia io e non lo sto facendo cioè ok quindi c'è anche il doppio salto A più A campiato si scoprono sempre nuove meccaniche ah possiamo attaccarci la volendo proviamo ok per il momento la difficoltà è abbastanza bassa però più avanti secondo me inizierà a farsi un pochino più complesso onestamente si dubito che sarà così per sempre ecco dubito veramente è già qui iniziamo a fare cose salti cos'è che devo usare ah beh si ls ok ma stavo ancora abbastanza bene ah possiamo pulire anche dei codi secondari quando vogliamo noi di base penso di aver capito perché se casco se no è un casino credo eh inizia a essere un pochino più tosterello ok perché il fido è rosso mo forse perché era arrivato un po' al limite potrebbe essere potrebbe essere potrebbe essere si era colorato di questo rosso acceso così a caso ma non penso che sia a caso ecco lo dico io ma non penso wow fighissima questa questa cosa questa parte che figata mi piace tantissimo il veramente il lato estetico del gioco si non so se devo andare di qua o di là onestamente cioè non so cosa scegliere si è preso un colpo ah ho capito tipo quelli che c'erano anche in uncharted no lì dovevi farli cascare se non ricordo male non c'è nient'altro questa meccanica che ti puoi riposare anche attaccato è molto interessante si 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 diciamo che va anche un po' a semplificare perché sennò sarebbe veramente complesso e infatti onestamente l'apprezzo tanto perché ci sta ci sta veramente tanto bene Lynn è andata sulle alture per chiedere di ampliare il sito senza un capo non abbiamo più il vento in poppa quando si tratta di scavare ma non è una cosa poi così negativa sollevare scatole casse barili è la mia specialità ma spostare quelle vecchie pietre al minimo beccheggio i ginocchi di tutti iniziano a tremare comunque mi stavo abituando all'idea di lavorare con gli archeologi mi sentivo di nuovo utile e invece il lavoro si è già esaurito dubito che riprenderà non vedo come si possa andare avanti tu che mi dici come va a bassa marea Dede non vuole ancora saperne di studiare amore che bello sentire ci manca tanto anzi un sacchissimo come dice Dede la sto istruendo a casa ma non è presa fuori dalla mia portata tu ti ricordi i nomi di tutte le regioni della torre ai nostri tempi si studiavano ho dato a Dede un compito per tenerla occupata per un po' doveva copiare il motivo del vecchio altare alla fine l'ho accompagnata lì erano ma dovremmo dovremmo esserci nuovamente ci siamo ok sembra di si mi si era completamente azzerata la connessione non capisco il motivo onestamente ma ci siamo ok ok possiamo andare avanti mi ero preso un colpo eccoci infatti non so che è successo mi si è completamente azzerata la connessione così di brutto e poi ripartire infatti mi sono fermato perché me ne sono accorto in tempo meglio così meglio che me ne sono accorto in tempo comunque a proposito gli archeologi hanno finalmente scoperto come funzionano le maree è da un po' che stanno scavando nel passato è bella questa quando tornerai da noi ci sa ok ma la connessione sembra che che vadi purtroppo non so io ho una connessione attaccata con cavolan una volta anche in passato è capitato così da nulla che mi si boh mi si azzerasse tutto per poi dopo tornare come prima ecco lo fa ogni tanto l'importante è che non mi disconnette poi il resto basta aspettare alla fine aspetto e si recupera allora quella cosa lì sembra veramente fighissima intanto ma 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 niente qua non c'è nulla una cosa che di solito è brava a fare donno sono le musiche le colonne sonore e mi sa che pure qua non si è sbagliata mi sa allora ehi bianca mi sa che te sei andata chissà dove sono tornato all'ufficio postale ancora niente acqua che sorpresona sauli e faz stanno ancora smistando tutto a mano e io sono stato costretto ad aiutare quelle cose in sella a un ciottolo cos'è un ciottolo ma ci pensi io sarò stato un autentico zimbello mi derido da solo ma alla fine perché no in fondo un nuovo inizio mi farà bene e più lettere arrivano più posso esplorare il mondo certo se solo questo maletto ciottolo cambiasse direzione quando glielo chiedo che testarlo peggio del vecchio yom tutto sommato però la situazione attuale resta un incubo vabbè di questo passo mi perderò la marea ho lasciato l'autoposta vicino alla porta ok devo ammettere che ancora non sto capendo la trama che c'è dietro sembrano racconti di persone che erano in questo posto e che purtroppo non ci sono più per forza di cause maggiori sembrano poi magari mi sbaglio primo impatto mi sembrerebbe così ah beh ci siamo ricollegati a questa parte alla fine si eh alla fine si ciao bianca come va le cose da giù ho sentito che il tuo capo è salpato verso l'orizzonte che liberazione non mi è mai piaciuto quello lì qui alla capanna la situazione è piuttosto tranquilla non ci sono molti viandanti di recente un lavoro stagionale quando non ci sono più stagioni ma che senso what the fuck cioè sto iniziando ad annoiarmi e grazie infatti ho iniziato a scrivere lettere raccontami qualcosa che mi distragga ti va è partito un mulinello di insulti tra quei due che spettacolo da allora nessuno ha più provato a persuaderlo pensi che rimarrà operativa anche se la gente smetterà di venire comunque presto potresti vedere più persone ho detto un annuncio pare che stiano organizzando una spedizione per esplorare la coffa della torre sono tentata ma partire con perfetti sconosciuti boh è vero l'ho sentito anche io si punta alle nuvole mica male meglio rifornirla a cambusa faremo di sicuro il pienone anzi perché non ti indici a loro così ci vediamo sei praticamente disoccupata non hai scuse sarebbe un bel cambiamento rispetto ai vecchi raminghe che ancora passano di qui sai l'altro giorno qualcun altro è rimasto bloccato al passo roccia lacrima il recupero è toccato a me quella gente è tanto stupida da mangiare il fieno come si dice da queste parti allora è deciso ti aspetto come disse cr7 ti aspetto no questa era brutta e ah posso collegarmi eh ma è troppo alto ancora di qua non riesco ci deve essere un altro modo per arrivarci per forza ma lì c'è una scala eh lì c'è una scala eh non l'avevo vista meglio tardi che mai meglio tardi che mai che è successo mi si era buggato era fermo immobile non riuscivo più a muoverlo allora io non so se saltare sia una buona idea onestamente per come la vedo no però da qui si potrebbe fare perché non salta e dai su ma che te costa no nada non riesco sono belli questi animalini così molto esotici mi piacciono assai li apprezzo spiegate le camera vada sola ho visto che c'è una cosa lì ma posso guardarmi intorno o devi per forza sa che botta si è sentita allora c'è un qualcosa qui diario 12 ottave dopo lo giusant 12 ottave giusant potrebbe essere il nome dell'evento che è successo per far sì che questo accadesse cioè tutto quello che vediamo ora il casino che è successo potrebbe essere dovuto da questo giusant poi chiamato in questo modo ma è un evento tipo catastrofico naturalmente parlando e vabbè finalmente me ne vado sono così felice che non ho chiuso occhio nella vecchia capitaneria di porto un avviso ha tirato la mia attenzione poesia per le mie pupille spedizione verso le nuvole in cerca di nuove speranze e acqua unitevi a noi per viaggiare insieme 12 ottave fattoria di becca e arlo alto piano dopo aver passato tanto tempo a marinare e a cercare di trovare un senso alla vita mi farà bene vedere il mondo come direbbe eme se tutto andrà secondo i piatti ci fermeremo al suo rifugio il solo pensiero di rivederla mi conferma che sto prendendo la decisione giusta con un po' di fortuna ci saranno altri avventurieri in partenza da bassa marea non voglio raggiungere il punto di contro con il resto della spedizione da sola l'unica volta che mi sono allontanata da qui è stato per le feste del raccolto quando ero solo una pesciolina quindi una spedizione come questa non è cosa da poco vogliono salvare per le nuvole oh no i miei genitori mi ero scordata di loro ma come ma come faccio appunto ciao vado all'avventura se si becca beh se torno viva ovviamente ma certo cara bianca portati qualche spuntino meglio non dire nulla gli spuntini però li porto sul serio e poi che si mette nello zaino per un viaggio del genere una cosa è certa cosa sarebbe un viaggio senza un diario di bordo a questo ho già pensato devo fare come delle spedizioni che partivano per la radura salina alla ricerca dei sorgenti spargerò le pagine del mio diario lungo il percorso così chiunque seguirà le nostre orme le troverà a cominciare da questo messaggio addio mi ha dorato faro mi ha eccolta e tenuta e tenuto compagnia mentre difettevo palesemente troppo sei sempre stato presente per me ti lascio i bessitori che veglieranno su di te dal cielo a vegliare su questo messaggio invece lascio una delle mie creazioni sento il richiamo dell'avventura bianca oh la buona la buona bianca ok e posso andare più giù in teoria in teoria si ok ma non c'è niente cioè no non dirmi che no vabbè no ma devo fare tutto da capo ma non non ci credo no vabbè aiuto va bene ok rifacciamo tutto da capo mannaggia mannaggia a me quando mi son tuffato giù pensando che ci fosse qualche cazzarola pensando che ci fosse qualcosa maledetto me quel momento che ci ho pensato ma vabbè alla fine ci ho provato non è andata però ci ho provato andiamo su stavolta per davvero calma oh mi stavo confondendo aspetta ah ok ok ci siamo però un po' forse ancora più in basso ok mamma mia come ho fatto non lo so no 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 aspetta ok ci siamo ci siamo ci siamo ci stiamo no no mannaggia non ci eh ma non è facile sembra ma non lo è per niente non lo è per niente raga vuoi iniziare a essere più complesso ok adesso adesso inizia lo sclero direi di sì direi di sì ho già capito che inizia adesso il momento sclero e vabbè eh come ho fatto non si sa ce l'ho fatta ce l'ho fatta siamo ancora vivi siamo ancora vivi mamma mia eh mi sa che questo gioco verso la fine regalerà tante belle imprecazioni ok molto probabile che questa cosa succederà ma ma ok eh allora salve siamo qui dentro questa era palesemente una casa ho chiesto aiuto a mo ma è stato inutile la porta non si muove non c'è modo di sapere come funzionano i suoi meccanismi interni ha qualcosa a che fare con l'oceano perduto anche mo non se la cava granchè con i lavori manuali ma pensavo chiedendo le forze avremmo risolto il problema ha dovuto levare l'ancora ha menzionato un appuntamento galante e in effetti era vestito troppo bene non certo da lavoro aveva anche un bel profumo ah qui si ricollega l'appuntamento niente di tutto questo risponde alle mie domande l'ho esplorato dal ponte alla cambusa ma resto al punto di partenza non ho ancora capito cosa potesse servire il mio faro i dipinti sembrano alludere all'acqua che cade dal cielo ma rimane un'idea più sto morendo aiuto ma rimane un'idea piuttosto vaga ora cosa dovrei fare? eh amico mio non lo so onestamente però dovremo una soluzione credo intanto salendo cosa cosa diavolo eh questo coso cosa sarebbe ah si si ricollega ma è bellissimo ma è bellissimo ma è stupendo ma è stupendo lui lui ha dei poteri allora a allora a wow sono profondamente colpito devo essere onesto a capitolo 2 migrazione quindi capitolo 1 è andato bello 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 cioè il gioco mi sta sempre più piacendo andando avanti e devo dire che ha il suo perchè ha il suo perchè poi la storia mi incuriosisce capire un po' dove vuole andare a parare il gioco perchè è curioso come cosa ah torniamo dove dove eravamo prima aia usando il tasto direzionale destro il tuo amico riuscirà a vedere gli obiettivi successivi e alcuni collezionabili quindi fammi vedere bisogna andare lì mentre i collezionabili direi che li abbiamo tutti presi bella questa cosa ah ecco nooo vabbè con l'eco cresce wow hai capito avete capito non me l'aspettavo questa dinamica calma calma ok riposiamoci un attimo grazie calma calma ok non so come sia salito ma va bene lo stesso non è importante l'importante è che sia salito si potrebbe andare anche lassù però secondo me quello è il prossimo punto in cui bisogna andare per andare avanti mi sarei bloccato no ok ho vista male per un attimo ho vista veramente male dove siamo è tipo un santuario attiva un affresco obiettivo questi sono gli affreschi in altro tipo di collezionabile immagino presente nel gioco ma ma sto affresco cosa cosa può voler dire a me sembra la torre di prima mi sembra o no o simile boh perché sto pensando a cosa potrebbe essere ma non lo so non non ci sono arrivato nel caso ditemi voi tanto questo questa live la ricaricherò anche sul canale youtube per domani che deve esserci sempre il 24 ore di pausa da da dover rispettare per caricare i video su youtube da twitch le live ricaricate tra l'altro domani se tutto va bene live alla stessa ora 5 e mezza barra 6 senza problemi tanto anche domani dovrei essere tranquillamente libero per quell'ora allora ok perfetto salto salto doppio salto e via benissimo benissimo sembra quasi che questo fosse un deposito una roba così genera cos'è ah inizia a farsi interessante si parecchio interessante un altro di questi thank you la cosa bella è che sembra che una volta che generi l'eco non è che c'è dopo un po' c'è il tempo in cui magari non so lo generi dopo tipo 20 secondi scompare l'effetto no sembra che che rimanga questa è una cosa che apprezzo perché a volte le cose a tempo mi mettono nervoso onestamente infatti non amo tantissimo le cose a tempo essere onesto anzi le odio c'è infatti nei giochi tipo sulle sfide a tempo ecco io è una cosa che odio alla follia le togliero forse forse nei giochi di guida ma per il resto proprio no per il resto 0 di 0 altro eco ok siamo in due le cose a tempo neanche a me piacciono eh che posso dirti di capirti bene quindi ci capiamo la vicenda ecco mettiamola così perché è una delle poche cose che nei giochi non sopporto le cose a tempo mi mettono solo ansia e basta e non mi fanno divertire e quello è il problema quindi questa dinamica che non c'è il tempo è porca miseria quanto ho rischiato riposa 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 dicevo questa dinamica che non c'è il tempo mi mi fa sentir meglio ecco mettiamola così riposiamo allora la stamina un po' si consuma eh pian piano ma è normale ci sta assolutamente però non mi sembra una cosa proibitiva nel senso si si consuma molto piano molto piano quindi alla fine va bene dai tra l'altro mi sto scordando di mettere i chiodi non li metto mai mi sto veramente dimenticando di metterli colpa mia colpa mia ehm per andare avanti scusate non me lo dice ah in questo modo te lo dice scusate là c'è qualcosa ok andiamo andiamo questo che cavolo è perfetto perfetto un'altra un'altra conchiglia un'altra conchiglia sembrerebbe questo forse era il bar di cui parlava prima ristorante bar può essere perché si sente musica gente che ride parla tavoli sì è tipo un bar o un ristorante ok diciamo che tramite queste cose riviviamo il passato ed è una bella dinamica secondo me è molto bella come dinamica in generale la trovo interessante la trovo interessante e di qua non c'è nulla vero? no e adesso ma quanto si sta allungando? ma quanto si sta allungando? eh per andare lassù come devo fare? sono abbastanza come dire non so cosa fare perché ah cavolo no non così no 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 non era quello che volevo fare io però vediamo se andando giù e però così torniamo dove eravamo prima no? eh cosa cambia? nulla non mi sembra cambi qualcosa onestamente però dov'è che si dovrebbe andare di preciso? qua cioè su sopra però qui ci siamo già stati quindi eh no non si non si può? sembra di no non si può perché non si può? qui non c'è nulla qui non c'è nulla sono bloccato sono bloccato tantissimo ah devo andare per forza giù non c'è altro da fare eh è incredibile mi sono bloccato di brutto mi sono strabloccato mi sono strabloccato raga che devo fa' è vero che ci indica la via però è anche vero che non è così chiara in questo momento io non posso più attaccarmi tipo questo oh ecco ah niente risalgo fa diverso forse non ha fatto qualcosa aspetta provo a inventarmi qualcosa provo eh non so se verrà proviamo no non cambia una fama proprio non cambia niente è dura si fa dura si fa veramente più complesso del del previsto ah devo per forza buttami da questa parte allora se no non riusciamo ad andare avanti sto morendo sono stanchissimo ok no 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 ma sei sei impigliato malamente mi ha fatto scusate mi ha fatto scusate impigliarsi raga mi ha aiuto no 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 ok ma ok no vabbè da capo da capo da capo la strada era su e questo abbiamo capito qui stavo facendo bene ecco questo sì calma calma riposiamoci calma calma riposiamoci quindi cos'è che sto sbagliando qualcosa sto sbagliando vai capir cosa però tipo questo cosa devo fa' perchè compare un qualcosa però 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 no no non ha si può cavare grazie non era quello che volevo fare io guardate guardate c'era un qualcosa che non andava per forza cioè è impossibile dai ma porca dove cavolo vai ah è dura è dura si fa più rognoso ok ok dove vado di qua proviamo proviamo mai che ne so mamma mia questo casino non c'è nulla no eh non si fa così scusa io 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 dissento da questa cosa dissento malamente lui se lui se la ride beato lui io sto a a morire malamente no scherzo no aiuto aiuto veramente questa che dicevo difficoltà non troppo alta e non troppo si sta alzando si sta alzando si sta alzando tempo al tempo che si sta alzando si sta alzando poi avete sempre posto è un picchetto ancora più giù eh però più in basso di così ok così però vai ok ma porca miseria no 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 ok ok vediamo e mo mamma mia che sto a fa io che sto a fa no no un po' di stamina ci vuole ok ci siamo ci siamo ho perso ho perso un collezionabile mi sa però sti cazzi c'è nel senso non sapevo come prenderlo ci ho provato a capire ma non non riuscivo a capire veramente come prenderlo svendita causa trasloco moschettoni amida pesca conchiglie sonore da regalare o scambiare comprovviste riparazioni e rammendi reti e bragature vabbè tutta sta roba qui chiedere di ennio oggetto smarrito metalline lucido e tondo non è di valore ma mi dispiace perderlo ricompensa una torta cerco impiego ma son tutte ma che cavolo è sta roba ma è tipo una una bacheca con tutti gli annunci cioè una roba del genere tipo com'è che si chiama? la cisterna si chiama il il nostro amico si chiama cisterna wow bello molto molto bello inizia a essere abbastanza grande il gioco si inizia un po' a a ingigantirsi eh si veramente dark si chiama cisterna perché ho visto l'obiettivo e mi diceva che si chiamava così fantastico la devo andare la devo andare un'altra bacheca? no forse no in questa ottava festeggiamo il ritorno della spedizione 34 al porto la spedizione è stata guidata da Kori che ancora una volta ha sfidato un mondo orizzontale siamo orgogliosi di accogliere nuovamente a noi questi figli di bassa marea che tornano con un tesoro inestimabile ehm vabbè discendenti dei celebri Ur, Iga e Ime hanno percorso distanze incredibili e sono riusciti a trovare una nuova sorgente ok nel prossimo sonno si terrà un ricevimento di benvenuto il collettivo di ex spedizionieri ha preparato la sua migliore torta di alghe torta di alghe portate le bevande immagino se la torta le alghe immagino le bevande cioè ho un po' di paura onestamente la gazzetta di brella ma questo è un giornale ehm allora vediamo un po' si parla di di brelle fa una selvatica in via d'estinzione ok sono note soprattutto per il loro volo lento e maestoso iniziano la loro esistenza aggrappate alle rocce assomigliano a fiorinotti come strizzite le strizzite generano le scintille ah piccole creature luminose che volano in gruppo nell'oscurità delle grotte dei tunnel qualcuno ha mai visto morire le brelle? nessuna quanto pare sono ormai dimenticate al momento in cui scriviamo sono quasi del tutto scomparse beh allora in qualche modo saranno morte poveracce credo eh poi non so curiosità eeeh vabbè sì ok sono d'accordo si parla di queste brelle che dovrebbe essere un animale in via d'estinzione che praticamente sta scomparendo e per questo gli dedicano tipo un giornale c'è un numero intero un editoriale poche parole si può anche salire di qua volendo ehm non so cosa ci sia porca miseria proviamo sono state scambiate per zanzare potrebbe essere potrebbe essere allora era meglio le brelle a questo punto le preferivo zanzare odiose veramente odiose un botto mi sa che di qua si va avanti in realtà infatti mi sa che dopo andrò giù a vedere cosa c'era dall'altra parte allora al punto di incontro mi aspettava mette mette una giovane di queste parti cioè giovane più di me perchè lei voleva restare perchè voleva restare? boh non non ha senso sembrava sollevata di vedermi ok si parla ancora di bianca mi sa che parliamo di bianca però non parlavamo di di mette anche il vecchio sol anche il vecchio sol si è unito a noi non credo che ci siamo scambiati una sola parola prima d'ora ammazza che che grande rapporto fin da bambina sol per me è stato il vecchio orimita che vive più in alto mi faceva una gran paura mamma mia era 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 terribile ma qui narra bianca siamo partiti in tre perchè nessun altro si è unito al nostro gruppo ben presto ho realizzato di essermi preoccupata per nulla è sola a farci da apripista quello di cui avevi paura una volta è il tuo grande amico ora attenzione 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 al buon sol vabbè posso scendere no si blocca ogni tanto il personaggio non capisco il perchè onestamente ma si blocca ok vorrei scendere mi hai concesso grazie ok ah c'è un altro ho capito ho capito mi sa che cosa sarebbe gira un altare è un altare e cosa ci ci regala c'è nel senso c'è un qualcosa che succede in particolare no non mi sembra cioè non mi sembra che ci sia niente in particolare ok è un altare noi dobbiamo sapere che è un altare eeeh poi il resto non è importante su dai il resto chi se ne frega il resto chi se ne frega allora allora di qua altro collezionabile che di la purtroppo abbiamo mancato questo qui che era uguale identico ma dettagli direi di andare su direttamente a questo punto mi posso collegare? mi posso collegare? mazza oh mi ha fatto un bel lancio eeeh ok benissimo perfetto perfetto cos'è quel coso lì? che cavolo è quello schifo lì? scusatemi eh ma veramente brutto il bene che possa avver' ma ma no ma no qui per chi è claustrofobico è è difficile comunque la telecamera a volte si impappina un po' eh come vi dicevo poi c'è questo piccolo problema della telecamera non è grave eh niente di grave di trascendentale però però un po' si un po' fa fatica in alcuni spazi chiusi a girarsi bene aaaah mh ho capito sembra più un animale tipo un pesciolino o una balena non lo so io son pessimo nel dedurre le cose son veramente pessimo ma veramente pessimo e sa che dobbiamo ancora salire eh così senza sembra un pesce eh infatti mi sembrava tipo una trota quelle cose lì no la trota salmonata ma riposiamoci va se no io non ci arriverò mai alla fine no ok qua è il massimo quindi così non va avanti non si trasforma allora siamo quasi arrivati se non casco prima che vedo un po' di incertezza in me eh dai ah no devo andare giù per forza aspettate eh io non metto mai i chiodi sono un maledetto perché se casco sono praticamente finito un uomo finito bello comunque anche il fatto che si cambia anche spesso location me ne sono accorto ora ripensandoci faccio ma questa location è veramente figa questa ambientazione è veramente ben fatta e cambiano spesso ed è bella questa cosa perché offre un po' di varietà cioè non fai sempre la stessa cosa nello stesso posto e devo dire che ci sta particolarmente eh assolutamente sì allora vai molto bene è vero anche tu l'hai notato questo cambio di di location no di bello bello trovo veramente una cosa bella perché ti offre quella quella varietà in più perché comunque dici ah un nuovo posto cioè ti appaga visivamente parlando eh poi è una cosa mentale ovviamente però dà quella varietà in più al gioco comunque un'ora e mezza non l'ho sentita mi sto veramente divertendo eh e per me non è semplice perché ultimamente i giochi non mi piacciono tutti devo essere sincero e questo è interessante perché è un qualcosa di che non spesso anzi una cosa di di nuovo un po' più innovativo rispetto ad altre cose che non spesso si vede in giro una roba del genere un gioco così non si vede spesso dai altra altra conchiglia qui c'era molta tranquillità anche prima secondo me perché perché ci sono veramente pochissimi rumori veramente pochi pochi allora tira giù di qua non si può andare ci ho provato ci ho provato ci si è provato e allora prima di fare questa cosa però peccato per questa telecamera un po' così peccato perché si poteva far meglio a mio parere allora eh parla del fatto eh questo è soul è l'uomo che di cui parlavamo prima che era un po' un eremita diciamoci la verità e parla del fatto che non riceve più il giornale e gli è piaciuto molto sull'articolo sullo spettacolo dei ciocco ah quindi non c'è più abbastanza acqua per fare in modo che mh i ciottori non sono sufficienti per consegnare i giornali quindi hanno deciso di interrompere le pubblicazioni della voce dei burroni eh per coppa dell'acqua sempre quando non c'è acqua sembra tutto più incerto è tutto vero eh immagino 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 di sì che comunque questa cosa un po' influisca eh non deve essere facile perché comunque la siccità la cosa è una cosa abbastanza sai noi siamo fatti di acqua senza acqua cazzo siamo uso due volte per scalare la cosa più rapidamente wow che figata questa cosa qui che figata però non mi serve così così corta devo andare di là ce la faccio? no più bassa ok molto bene molto bene allora no 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 troppo troppo alto molto bene no ho sbagliato ok ora ora sì senta che mi riposo va vedo un po' stremato oh figo ok ok allora apriti non ho mai visto così tanta gente scendere dalle alture alcuni addirittura si fermano a bassa marea forse la mia situazione non è così disperata l'uncello si prende cura di chi ha pazienza come diceva sempre mia madre forse riuscirò finalmente a incontrare qualcuno qui c'è poca scelta c'è che tristezza però sembra quasi tipo oh qua c'è poca gente magari qualcuno mi fila per forza cioè a parte il vecchio Yomi intendi mi fa battere il cuore con quelle sue fossette le mani callose ma che cavolo dai Yomi il fornaio ma perché ma perché ma perché ma andiamo avanti eh per favore le tue letteri mi mancheranno bene e dopo questa direi che secondo me possiamo chiudere anche la live perché tanto siamo arrivati ad ore 40 e onestamente non volevo farla durare troppo perché poi dopo viene rimessa su youtube e comunque la gente deve guardarsela quindi è un pochino lunga vabbè che taglierò l'inizio diverse cose ah ma c'è anche c'è anche la descrizione delle cose che vediamo scusa eh però aspetta un attimo ogni mattina le onde accompagnano il giorno fin da quando ho memoria noi balliamo le danze delle maree bella questa cosa di notte le stelle raccontano fiabe le luciole si scaldano noi ridiamo sogniamo storie dei giorni e avvenire di quei aiuto storie dei giorni e avvenire di quei trascorsi niente vorrei di parlare mi sto impappinando malamente le lettere vabbè abbiamo trovato un sacco di lettere è che io odio questi queste notifiche e devo per forza cavarle sono abbastanza malato su queste cose due ne abbiamo saltate ad occhio siamo già abbastanza messi bene come 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 cioè siamo a un terzo delle lettere praticamente quasi va bene ragazzi io vi ringrazio molto è stato bellissimo giocare qui con voi parlare un po' con la chat in generale mi ha fatto un sacco piacere e vi dico che torneremo domani sempre alle cinque e mezza barra sei però vediamo un attimo cosa portare perché vorrei portare Giussant però vorrei anche un po' variare e stavo pensando tipo non so FC con ultimi team ma fatemi sapere io onestamente Giussant vorrei continuarlo e giustamente perché sembra essere un titolo che può nascondere tante belle sorprese a mio parere e niente ragazzi vi auguro una buona serata per chi vuole ci vediamo domani grazie ancora per la presenza per tutto e vedo un attimo una cosa e bene così ragazzi grazie di cuore facciamo un ride a qualcuno facciamo un ride si può si può si Dark ci sentiamo su Instagram ci sentiamo su Instagram no non posso fare un ride a Playstation perché c'ha poco senso dirà che cazzo è questo e va bene va bene ragazzi a domani grazie di cuore buona serata ciao